Siamo analgesiche o supposte itali? Mio fratello è tonto. Non si ricorda mai del mio compleanno. Dai, non è così grave. E invece sì. Siamo gemelli. Perché mi chiedi sempre di raccontarti le barzellette? Perché le tue battute fanno ridere, ma anche riflettere. Basta, ti lascio. Sei troppo preciso. Vorrei dire pignolo. Fiume, come mai sei contento? Perché sto andando a mare. Stamattina ho sventato un omicidio. Wow, come hai fatto? Autocontrollo. Mi hai mentito. La tua è stata tutta una montatura. Vacanze estive. Queste sono le mie aspettative. Questa è la realtà. Cosa stai facendo? Sto porcheggiando. Posso fidarmi di voi? Sì, siamo le ali. Sono risuscitato. Perché ti sei messo un bicchiere in testa? Perché così posso dire che so respirare sott'acqua. chtprepire. Sof 16 cores. Perché jako sei messo un e occidale? Si. Molto.